Grazie a tutti Buonasera Oh eccoci qui, ciao volete. Sì, che ti stupi? Wow. No. Wow. Sì, sì, sì. L'ha detto più basso, lo sapevo, lo sapevo. Ben paziente. Le prime persone li stanno per entrare. Andiamo a filmare. Il carnaio maio. Che mi spaccheranno veramente le orecchie. Per le donne sarà un momento molto magico. DJ Marco Cecchini, digiore. Ricchiettate, buon divertimento e buona serata a tutti. Ciao. Andiamo a filmare. Ciao. 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 Grazie a tutti.